con questo tutorial vedremo come creare una sorta di firma di copyright al nostro lavoro però prima passiamo a vedere la funzione di questa schermata questa schermata si ha in automatico all'apertura del programma intanto se vogliamo eliminare questo automatismo basta togliere questa spunta qui possiamo dare il nome al nostro progetto qui possiamo scegliere l'aspetto che vogliamo dare diciamo che il 16.9 è un aspetto più nuovo rispetto al classico 4 su 3 ed è un formato che tiene conto, che tiene costante l'altezza mentre aumenta la visione in larghezza per cui con questo 16 su 9 non avremo quegli antiestetici spazi che si vanno a formare a destra e a sinistra del nostro video però in contemporanea dobbiamo anche tenere settata l'opzione fill frame questo magari lo vedremo quando analizzeremo le preferenze che vogliamo dare al nostro programma bene, invece da questa opzione template da qui possiamo scaricare il materiale free che il programma mette a disposizione da qui si possono scaricare sfondi, maschere, cornisci poi ancora transizioni e quant'altro stabilito questo lo aiutiamo le altre volte abbiamo riempito la timeline con i nostri file trascinandoli adesso invece vediamo come fare questo con l'inserimento della cartella l'andiamo a cercare nella lista io ce l'ho sul desktop quindi aprite e ho aperto il canale desktop ho visionata la cartella ci ho cliccato due volte sopra il suo materiale si è aperto in questo spazio e poi facendo il doppio clic me le ritrovo nella timeline a parte che se cliccate di destro qua e selezionate tutto in un solo colpo potete scegliere l'eventualità del trasferimento voglio farvi vedere la funzione dell'annulla comando cosa si fa per annullare un comando non c'è la famosa freccina che troviamo in molti programmi di grafica ma selezionando il file in oggetto cliccando di destro dal menu possiamo fare davvero tutto possiamo rimuovere l'ultimo comando possiamo per dire selezionare tutti i file possiamo deselezionare rinominarli possiamo trasferirli a destra, a sinistra cosa possiamo fare di più? possiamo copiare possiamo incollare è sempre l'opzione riferita sempre al file selezionato mi raccomando questo è importante ecco passiamo adesso a mettere ad inserire il copy che vi dicevo per evitare un po' anche per farci conoscere se decidiamo per una firma testuale possiamo mettere l'url del nostro sito, del nostro blog oppure possiamo mettere un logo che ci faccia riconoscere subito perché magari useremo sempre quello e comunque sia il logo che prepareremo precedentemente che la firma deve essere senza sfondo quindi in estensione PNG oppure in alternativa in estensione GIF però è preferibile per la qualità, per la risoluzione l'estensione PNG cosa facciamo? clicchiamo su progetto no scusate su show show va a de mer ecco qua si mette la freccetta qui seleziono la cartella dove ho la freccetta io ce l'ho qui la firma chiedo scusa io ce l'ho qui questa è una firma testuale si poggia la meglio la spostiamo la mettiamo a fuoco non ci devono essere sgranature di pixel mi raccomando magari mettiamoli in un angolino così non è troppo invadente diciamo che non ci piace che abbiamo deciso poi all'ultimo momento di mettere un logo cosa facciamo? la rimuoviamo e abbiamo sempre in uso l'opzione e selezioniamo questa volta un logo lo spostiamo facciamolo più piccolo in un angolino che non dà fastidio diamolo ok eccolo qua posizionato in tutti i file che abbiamo beh questa volta è stata un po' noiosetta la lezioncina però credo che sia stata abbastanza utile questa è una funzione molto bella createvi un logo che vi faccia riconoscere carino con un programma di grafico ricordate deve essere senza sfondo ciao alla prossima ciao a tutti i